Un mezzo in cui la gente non ha solo viaggiato, ci ha fatto amicizia, ci ha litigato, ci ha preso a schiaffi gli altri. Esatto, il Pullman, ma non un Pullman qualsiasi, il Pullman, Setra 315 HDH. Sviluppo industriale, gonnelloni, schiavismo, caporallato nel Foggiano? No, Germania poco prima del Novecento. Partiamo bene. Nel 1893, in Tedeschia, un germanese si sveglia con la voglia di risolvere un problema fondamentale, lo spostamento della birra e altri generi alimentari. Quell'uomo è Karl Karlsbohrer, che decide di aprire il suo stabilimento a Ulma e iniziare subito a tirar fuori i furgoncini telonati di gran classe e da lì parte la sua attività. Ma, Carletto, non basta. E che ti fa? La domenica me lo rigira in autobus, visto che il retro ha le panche. Solo nel 1911 decide di tirar fuori un vero e proprio autobus di linea, ma senza sbattersi troppo. Prende un telaio Saurer e ci monta su tutto. 18 posti, uno personale per flexare e un altro per il trasporto pubblico di Ulm. Poi arriva la guerra e, come tutte le cose belle, se non vengono distrutte, vengono requisite. Carletto tira le guele nel 1922, lasciando tutto nelle mani dei figli Karl Junior e Otto. Mentre il primo si dedica ad autocarri e rimorchi, l'altro si casa con gli autobus di linea. Lungo come un campo da calcio, alto come un condominio, pesante come una balena e grande... come un Pullman. Raga, è bello soltanto come un altro Setra. Oh, lo dovrebbero usare come spot sta cosa qua. Il Pullman esegue una logica di costruzione ben precisa. Innanzitutto la lunghezza per accogliere tutti quanti i passeggeri. Ma perché i passeggeri sono in alto? Perché in basso c'è tutta la meccanica, il vano bagagli che oltre che essere alto, prende praticamente metà del Pullman, il motore e la trasmissione che partono dalla radoa posteriore fin dietro e ci sono le scalette, le due scalette di entrata, che ti portano verso i posti. Questo è anche l'HDH che è più alto dell'HD. Più alto di lui, solo esclusivamente il Pullman a due piani. Fermi tutti! Momento sponsor, se lo salti sei un vaggaro. Lo sapevate che CarVertical è un sito, una app che vi permette di trovare informazioni su un'auto e uno storico dettagliato inserendo soltanto il numero di targa e il codice VIN? Sì, Fabri, lo sappiamo, ce l'hai detto un milione di volte, vai avanti, vai! Ma non sapevate che CarVertical si è rinnovato? Eh già, da oggi con il nuovo CarVertical non serve più essere degli espertoni per comprare o vendere un'auto. Ci riuscirebbe benissimo anche quell'impedito di Gabriele. Anch'io? E come? Beh, grazie all'aiuto di questi due tizi, Varisto e Ernesto, che ti assomigliano, le due nuove mascotte di CarVertical. Ma basta informazioni utilissime, cerchiamo di concludere, dai. Da oggi l'app è stata rinnovata per essere user-friendly e il sistema di report è stato snellito. Fabri, ma che sai fare? Snellisco per rendere tutto il più utilizzabile. Ma adesso vi faccio vedere qualche esempio. Come on, dai, vieni con me, dai, come on, dai! Puoi giocare a chi ce l'ha più grosso con i tuoi amici? Non c'è problema, BMW X5 fa per te. Targa, VIN, entriamo nella nuova schermata. Perfetto, rubato, ok, odometro, che sarebbe il contachilometri, i chilometri reali. Stato finanziario e giuridico? Nessun problema, vuol dire se ha cariche pendenti. Danno, ecca là. Arrivi direttamente al danno, la prima cosa che non va, arriva subito. La vedi? È bella, è stata smussata, non ha più la mascella, guarda che botta. Set completo di danni, niente X5, mi dispiace. Ma CarVertical non è utile soltanto a comprare auto, ma a controllare anche il vostro veicolo per vedere che manutenzione fare, oppure per venderla meglio o a più prezzo. Vuoi comprare un'auto, ma sta a Beringovski? A Beringovski. Eh, pensa tu come è lontano, non sai neanche dove sta. Controlla prima con CarVertical, non devi dare di farti un viaggio di ritorno con qualche sorpresa indesiderata. CarVertical e finalmente... Fabri, non diventi chi nulla? Ecco scordato, fammi capire. Ah, giusto. Ricordatevi di utilizzare il nostro codice sconto REALCAR per avere il 10% di sconto. Esteticamente è uno scatolone dei detersivi. Lo puoi allungare, lo puoi stringere, lo puoi alzare, lo puoi arrotondare, lo puoi fare a tratti stranoidale, ci puoi scrivere anche giugiaro vicino, ma niente, è sempre scatolone resta. Ma è a tratti futuristico? Le sue appendici, i suoi specchietti, le parti che servono ad abbassare il CX a livello più umano fanno sì che il mezzo diventi realmente più futuristico del solito. Setra vuol dire letteralmente autoportante. Immaginate un po' la struttura, l'intelaiatura di un grattacielo. La prendete, la buttate a terra, ci attaccate le ruote, lo sterzo e le lamiere e fate il pullman. Mazzò, hai risolto uno dei grandi enigmi della storia dell'autocomobilismo italiano. Complimenti, complimenti. Raga, è largo, due metri e mezzo, è alto, quasi quattro metri, è lungo, pesa 18 tonnellate, è lungo. Nove passi miei. E questo è il portabagagli, ragazzi. Io c'entro dentro, ma rendetevi conto che i messicani ci mettevano i parenti, correre della droga ci imbuscavano la droga. Il servizio celere dei pezzi di ricambio dei ricambisti. Ci potete mettere un motore sano qua dentro, senza problemi. Adesso vi facciamo vedere che cosa vuol dire veramente casborer, ossia autoportante. Queste sono le viscere del vero e proprio della scocca di un pullman. Voi conoscete soltanto questi due pannelli. Cioè, gli autisti scendono, vi aprono questi due portelli, infilate e viene andato. Però qui si è da notare quella che è la struttura, tutte le nervature, questa parte che è la scocca portante del pullman. Guardate qui, bracci di rinforzo, la struttura mediana. È talmente tanto ferro che non suona neanche, cioè... Visto? Da quest'altra parte invece iniziate a trovare tutti quanti i vani nascosti. Questo che ormai è un accessorio che quasi non esiste più, ossia lo sportello. Un altro piccolo vano. Giustamente gli autisti ci tengono estintori, ferri, il martello, pressione gomme. Qui si va sempre verso dietro. Altra struttura che ti fa capire come sta fatto. E come sta fatto? Sta fatto bene, è massiccio proprio. Altro vano bagagli, accessori, accessori sempre dell'autista. Tutto motore, tutto motore che vedremo dopo. Altro vano secondario, questi sono i soffietti del pullman. Quelli che si gonfiano per le sospensioni, non è una barzelletta, ma ve li facciamo vedere dopo con le sospensioni. Altro vano parallelo a quell'altro. Lance di idropompa, mocio, perché pulire questa cosa è esattamente come pulire un condominio. Quindi ci trovate la ditta di pulizia qua dentro. La cucchetta chiusa dall'interno. Cuccetta proprio come quella dei Canon, dove l'autista scende e va a dormire. La porta secondaria. La parte più bella, quella che trovate sempre chiusa da parte degli autisti, ma non tutti quanti. Il cesso chimico, quindi pompa, tiraggio, il bluetooth, tutte queste cose qua, tutte queste cacate, veramente. Scendi, vai, vedi. Mish, mish. L'altra parte del bagagliaio e poi si arriva giustamente l'altro piccolo vano. Adesso capite il perché voi state in alto e il resto sta in basso. Perché non vi iscrivete al canale, siete sempre soldi, 60% che vedete, scorrete, vi fate consigliare e poi andate via. Siamo negli anni 30 e diciamo che dal 33 al 45 succedono un po' di cosine pazzerelle in Germania. Ma Otto si dedica a tempo pieno nel riempire il pullman di chiccherie che mai verrebbero in mente a nessuno. Prende un telaio da 2 tonnellate e ci pianta un 18 posti da panico da 18,7 metri. Con tetto apribile, vetri a scorrimento, vetri a manovella, vetri bombati. Insomma, non è un pullman, è un expo di una vetreria. Poltrone reglinabili, toilette, cucina. Nonché dell'originale sistema di riscaldamento Aurora, che utilizzava come fonte di calore un liquido apposito. Probabilmente cancerogeno fino al midollo, ma non era ancora l'era della consapevolezza su questi argomenti. Quindi vai col tango e l'asbestosi. I suoi mezzi ormai erano al pari di un Titanic, ma che se bucano non affondano. A metà degli anni 30 il nostro megalomane decide di fare le cose ancora più in grande. Ti spara fuori un'auto articolato da quasi 19 metri. Trainato da un camion o tratture Mercedes LZ 8000. 120 posti a sedere e 50 in piedi perché il controllore ce lo deve sucare. Vi ricordate le cose pazzerelle di prima? Beh, finirono col distruggere dai bombardamenti gli impianti Gasborer. Ma arrivano gli anni 50 e boom economico a manetta. Go-go, pin-up, macchinoni per l'America e macerie per l'Europa. Otto non molla un cazzo, manco un millimetro e riparte da dove è lasciato. Un mezzaccio di proporzioni bibliche, ma che non ha nulla a che vedere con i mezzi sfarzosi e l'anteguerra. Arte povera, più scarni! Salone dell'automobile del 51 e arriva il 6-3-6-8. Minaccia teotonica da 50 quintali come solo mamma tedesca sa fare. 37 quintali di carico utile mosso da un prepotente 5.4 litri. 95 cavalli, 6 cilindri Enschel che faceva solo 100 chilometri con 20 litri di nafta e i GTD a letto senza cena. V8, biturbo, 380 cavalli, Mercedes, un motore della madonna che non finisce mai. Da questa parte troviamo invece l'aria condizionata, il mitico sistema variomatic che non c'è più. Non lo vedremo mai, lo hanno eliminato tutti quanti. Il mega radiatore dell'acqua, vaschetta dei liquidi, il doppio alternatore. Da quest'altra parte invece, quasi nascosto ma non troppo, il webasto per il riscaldamento. E dopodiché c'è tanta altra roba che sembra essere compressa. Il cambio è uno ZF a 8 rapporti, 4 veloci e 4 lenti. Non vediamo attaccati i motori e trasmissione e dopodiché c'è un albero di trasmissione che va a differenziali. Qua il cambio è un po' come quello della 126, qualcosa del genere. È tutto quanto un blocco e dopodiché esce direttamente. Questo veicolo nasce Euro 2, però è stato aggiornato ad Euro 5. Lì c'è una marmitta del costo di circa 10.000 euro. La fregatura sapete qual è? Che viene riconosciuto come Euro 5, ma quando vuoi andare ad esempio nel centro di Roma, te lo riconoscono sempre come Euro 2. Perché? Perché ti devono rompere le palle. Da quest'altra parte invece troviamo i filtri del gasolio. Questo è il webasto, un sistema che è indipendente, che pesca il gasolio direttamente dal serbatoio e serve a riscaldare. Anche quando il pullman è spento, tutto quanto messo in opera, bello coibendato, i tubi di scarico e la marmitta catalitica che sta qui sotto è un po' più nascosta. Da quell'altra parte in fondo vediamo le turbine enormi. Quelle due sono le turbine. Una qui, una per bancata. Da quella parte invece vedete tutto quanto il gruppo degli iniettori, perché questo motore è dotato di pompa rotativa meccanica. Questo è un motore che è dotato di quattro valvole per cilindro. La distribuzione ovviamente, come tutti quanti i motori dei camion, è a cascata di ingranaggi, quindi non devi rifare assolutamente niente. L'unica cinchia che vedete nella distribuzione è la cinchia dei servizi. La cosa che invece potete notare è che come da tradizione a Audi, auto a motore posteriore, il motore posteriore ha sbalzo. Perché ha sbalzo? Ragazzi, è semplicissimo. Bisogna recuperare tutto lo spazio possibile per metterci i passaggeri. È un pullman, serve a porta ai passaggeri. Altro vano accessori dove sono contenuti anche i vari soffietti, cassette, bulloni e tutto il resto. Infrattato da quest'altra parte invece c'è la modifica con la centralina e il serbatoio per la di blu, perché questo, come abbiamo detto prima, è stato aggiornato all'euro 5. Te quando cazzo l'ha aggiornato all'euro 5, scusa? Da quest'altra parte il radiatore dell'acqua, intercooler, sistema di stacco generale, filtro dell'aria è enorme, ma giustamente per motore grande ci vuole un pennello grande. Doppia batteria, 1150 ampere, 12 volt, cioè sono due, mica uno scherzetto eh. Da quest'altra parte ancora, tutto quanto il blocco dell'aria condizionata, quindi essiccatore, condensatore e tutto il resto. Adesso vi rendete conto di quanto è grosso un sistema di condizionamento di un camion? Le gomme possono essere 6 o 10, tutte quante della stessa misura, 295 e 80 su un cerchio da 22 e mezzo, cerchi lega ovviamente, mille e mila bulloni per reggere sempre le gomme, e sono tutte della stessa misura. Di base dietro abbiamo 4 gomme, si chiama asse gemellare per questo motivo, per questione di peso ci sono 2 gomme per lato. In alcuni paesi, in alcune situazioni per il peso potete trovare anche il doppio asse gemellare, ossia un set di gomme che sta più avanti, un altro asse che sta un po' più avanti. Toglie un po' di spazio, ma è utile. Quindi potete avere di base 6 ruote in totale, oppure 10 in totale col doppio asse gemellare, tutte quante gomme che stanno 5, 6, 700 euro l'una. All'anteriore abbiamo freni a disco avanti, tamburo dietro, ad azione invertita, pneumatica, ossia quel classico che se l'impianto perde, le ganasce e i dischi rimangono attaccati, quindi resta frenato. Le sospensioni invece sono qualcosa di un po' diverso rispetto ai camion. Qui abbiamo una sorta di sistema a fusello anteriore e uno schema atipico di assale rigido al posteriore. Ma vi starete chiedendo perché ho questa specie di gomma di cocart da 3 o 4 inquadrature a questa parte? È un soffietto. Questo sistema è un sistema d'aria compressa. Ci cade il peso di tutto quanto il mezzo e si sgonfiano, si ritira. Dopodiché, quando viene attivato il compressore, può essere alzato, sollevato, abbassato a piacimento. E serve anche per il comfort, perché dà un assorbimento quasi ottimale delle asperità. Molto semplice. È di gomma molto, 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 molto robusta. E se esplode, fa un bordello che non avete idea. Una volta ne è scoppiato uno sul pulvano dove stavo io. Tu. Si è passato, si è bloccato da un lato. Tutti sono usciti urlando. Tu. Sono usciti sul pulvano a dormire. Uno Stralis alla Procter dove lavoravo io. Esplosero prima uno e dopo un altro. Avemmo paura. Gli dicono che cazzo sta esplodendo qua? Sì, sì. Si ammacca, ma voi immaginatevi con l'era compressa in un colpo. Quando mi rischio di cagare faccio la stessa cosa. No, non ne posso più. Dov'è la ruota di scorta al pullman? Qui. Ragazzi, non lo sapevo manco io. Però vediamo che oltre la ruota di scorta, vediamo il resto dell'intelaiatura portante di tutto quanto il setra. E poi c'è anche la scatola sterzo. È idraulico ovviamente perché sennò chi cacchio lo muoverebbe sta cosa qua. Però lo sterzo non è collegato con la sale dello sterzo, con la scatola sterzo come nelle auto, semplicemente con un perno, la cremagliera, quello che volete. No. C'è il sistema idraulico con i tubi che portano direttamente alla scatola sterzo. In pratica è come quello dei trattori. Un sistema di pistoni che muove ma è separato dallo sterzo stesso. Ma sta dicendo davvero? No, è uno sterzo per tutti ormai. Vi starete chiedendo ancora dove sono i serbatoi sempre incastrati in posti dove non immaginate. Uno è qui e l'altro speculare dall'altra parte. Sei, otto quintali di gasolio. E ti passa la paura. Solitamente vi chiederete perché non fare i freni proporzionati al mezzo, al peso, alla velocità e farli casomai un po' più grandi e vai con Dio. Non è così facile, cioè è un po' troppo riduttivo. Qui il sistema si fa più complicato. Sebbene abbia freni a disco avanti, tamburi dietro, quattro freni a disco, ABS, freno motore, non basta tutto ciò. Perché su questi mezzi qui è più importante rallentare che inchiodare. Ci sono casi in cui se voi vi mettete e trovate una macchina subito di fronte, si inchioda e tutto perfetto. Ma quando invece si inizia a scendere dalle discese, da fare tratti di montagna, prima in salita, poi in discesa, c'è un sistema che aiuta i freni a rimanere freschi e questo qui è il Void Retarder. Ci sono tre tipi di Void Retarder. Il primo è quello elettromagnetico. Immaginatevi un babbione di 300 kg attaccato alla trasmissione con due magneti interni che si contrappongono, quindi interferendosi a livello di campo magnetico, creano un'azione di rallentamento. Il vantaggio è che interferendosi, non avendo parti di attrito, non ha bisogno neanche di manutenzione. Il secondo invece è quello utilizzato anche per lo più sui camion e pesa circa 140 kg e funziona ad olio. Come funziona? È sempre attaccato alla trasmissione. Immaginatevi questa ruota con delle palette. Di fronte a queste palette viene spruzzato l'olio tramite alcune elettrovalvole per vari gradi di frenatura e se vi ci applicate troppo, ma vi ci dovete applicare, può anche prendere fuoco e ha bisogno di un po' di manutenzione. Per evitare che prenda fuoco questo tipo di retarder, viene unito a un sistema di raffreddamento al liquido. Il terzo invece è proprio di Voigt ed è il sistema che utilizza un liquido a temperatura controllata, cioè il liquido di raffreddamento del motore. Funziona esattamente come quello di prima, non ha quasi per nulla manutenzione e soprattutto pesa 40 kg che in questi casi aiuta. Dopo anni di produzione artigianale, grazie a Ford, arriva la catena di montaggio, produzione industriale vuol dire espansione esponenziale. Si arriva alla fondazione della vera e propria azienda Setra, il cui termine deriva dalla parola tedesca SELBESSTRATEN, che significa autoportante. Nel 59 sbuca fuori il primo auto snudato della storia, Setra SG165. Ormai bus di tutti i tipi, urbani, extraurbani, extraterrestri, lasciano gli stabilimenti a flotte. Negli anni 70 cambiano le forme, migliorano il comfort e quando il mondo crede di aver concepito il top per un bus, arriva il Setra S150, rialzato, panoramico, la meccanica raffinata fa paura. Carletto Junior passa miglior vita ed i due figli rilevano tutto. Ma la megalomania si tramanda e i due figli aprono la strada su un altro fronte, presentando il primo bus rialzatissimo, più alto che lungo, il Setra S200. Eh, perché? Perché più lungo non si poteva fare, ma più alto sì. E che fai? Del bus a due piani non te ne privi? Eh, no che non te ne privi! Eccovi l'S228DT, che dall'82 al 93 vende più di 1100 unità. Nel 95 la Setra viene assorbita da Mercedes, cambiando nomignolo. Da oggi il gruppo Evobus, GM e BH. Vede la luce la serie 300 e il 328 a due piani è qui. E vai! Dal 2001 al 2014 sbarca la serie 400, le Rolls dei Pullman la chiamano. Motore, cambio, assetto, silenzio, comfort, signori, qui si sale di livello. La megalomania adesso si vede nelle piccole cose che migliorano il tutto. Ed infine siamo ai giorni nostri con la serie 500, un'ulteriore evoluzione della serie 400, ma sempre megalomane. Giorno, dove ferma questo? A fangulo, vuoi venire? Eh, chiaro. Gli interni, ragazzi, gli interni di un Pullman li dobbiamo fare per forza a pezzi perché... Cioè, voglio dire, qua non si vede la fine. Partiamo dall'entrata con la parte del guidatore. Fatti quattro scalini, ci si mette subito al posto di guida. Ovviamente l'autista, non tutti, eh. Come per lo spot della banca e dell'azienda di telefonia, è tutto intorno a te. Selleria Recaro, quindi la delta evoluzione, mutissima. E tutta la strumentazione che serve per controllare questa specie di condominio su ruote, perché è veramente un condominio, visto il casino, eh. Il più bello, il fungo rosso che serve per l'arresto di emergenza di tutti quanti i sistemi. Il volante con la colonna enorme, non chiedete di metterla dritta perché sta cosa praticamente non si sposta facilmente. Il quadro strumenti, c'è il tachigrafo, il contagiri, il contachilometri, il milione e trecentomila chilometri fatti da questa macchina. Le varie spie di freno a mano, pressione freni, pressione delle ganasce, pressione dell'olio, temperatura dell'acqua, carburante e poi addirittura del freno a mano. La radio, il sistema di diffusione interna, il webasto e l'aria condizionata di conseguenza. Il freno a mano, altri pulsanti in puro stile forno della Rex di nonna Pina. Il navigatore satellitare che ormai è diventato un accessorio che fa parte da un po' di tempo a questa parte di tutti quanti gli autisti. E dopodiché la pedaliera. Acceleratore, freno. Uh, drip check. Eh, certo. Decathlon. Acceleratore, freno, freno motore, frizione. La leva del cambio ad otto rapporti, chiavi sparse che ti fa capire tutto, una presa giustamente per l'aria compressa, anche per pulire una presa, che questi mezzi sono dotati di compressore. Questa che giustamente speri di non aprirla mai. Il devioluci enorme, claxon che sta qui, luci, frecce, la puliveloce dei vetri. Come si comanda il Voigt, il retarder? Con questa. Uno, due, tre, quattro, cinque scatti. Da uno alla quinta posizione regola il ritardo, ossia la frenatura che volete dare al retarder. E da quest'altra, invece, c'è il cruise control. Imposti la velocità e te la tieni come ti serve. La leva del cambio è esattamente come le macchine di Fast & Furious. Lì cambiano marcia, profusione, non si capisce quante ce ne siano. Qui invece lo fate nella realtà. Dalla prima all'ottava, tutte di fila. Basta ragazzi, finitela di rompere le palle voi con sta canzoncina. Se facciamo incidente, muore il conducente, che morite pure voi. La finite di fare casino? E iscrivetevi al canale, perché se no vi lascia zaccabria, muovetevi. Ragazzi, la finite là sotto. Quante volte ve l'ha detto la professoressa, dai. Il sistema di microfono che serviva ad informare tutti quanti. Per noi, ragazzi delle scuole, era uno strumento di tortura sentire la voce della professoressa in una giornata che era di festa. Però serviva anche per molte altre cose, non so cosa, ma per molte altre cose. Per raccontare le barzellette, per dire le cagate. Per fare l'imitazione degli animali. Perché l'imitazione degli animali? Ma come no, ma no. Ma che cazzo di giude facevi? Io non lo facevo. Ma che per piaci? In continuazione belavano faceva... Ma scusa, non l'hanno mai fatto. No. Cari razziatori miei, qui scatta il problema principale. Il Pullman, come il Turbo Star, è un mezzo d'opera che però, addirittura rispetto al Turbo Star, segue una via leggermente diversa. Molti hanno restaurato i Turbo Star, hanno restaurato i camion in generale, ma nessuno si è azzardato mai a restaurare un Pullman. Tranne quelli che sono esposti nei musei, tranne qualcosa, nei raduni, anche di mezzi pesanti. Pullman, se ne vedono pochi quanto niente. Entra in gioco anche un'altra situazione qui, che è la cosa peggiore. Molti di questi, essendo Euro 2, Euro 5, pre-Euro, qualcosa del genere, devono essere per forza rottamati. Perché? Non ti fanno entrare nei centri città, non ti fanno entrare addirittura nelle città, e in alcuni casi c'è anche il divieto in autostrada se non si è Euro 6. Il che porta i proprietari a far sparire questi mezzi il più presto possibile. Abbiamo chiesto a molte persone, meccanici, restauratori, se si sono mai imbattuti nel restauro di un Setra. Nessuno. In pratica questi mezzi finiranno là dove nessuno è mai giunto prima, cioè il Nord Africa. E soprattutto in posti dove la Greta è soltanto un'erba da fumare. Difetti. Raga, qualcuno c'era. Era una macchina indistruttibile, ma qualcuno c'era. HDH a due assi, avendo un asse meno in autostrada, pagava meno. Però in curva era meno reattivo e soprattutto... ...ondeggiava. L'HDH sempre a due assi, per farlo rientrare e nel peso, e soprattutto per farlo 55 posti, gli misero dei cerchi in lega molto leggeri. Questo bestione come sistema di climatizzazione aveva un sistema chiamato Variomatic. Raga, non ve ne andate sbattimento. In pratica era una puleggia che con un sistema centrifugo si allargava o si stringeva, in modo tale che voi in città, a bassi giri, a minimo, avevate sempre il compressore dell'aria condizionata che andava ad alti giri e quindi sempre freschi dentro. Non funzionava quasi mai. Tutti modificati, compreso questo. Signori, basta difetti. A detta degli esperti, questa era una macchina che rasentava la perfezione. La sua unica pena? Non essere più in normativa euro. Ragazzi, il Setra era una macchina perfetta, ti portava ovunque in sicurezza, faceva di tutto, ti faceva dormire, aria condizionata, tutto e ti faceva anche il caffè. No, letteralmente, faceva proprio il caffè. Professore! Posso dire una curiosità? Vai. Pochi lo sanno, ma Gasborer faceva i catti delle nevi e la cosa bella è che li fa ancora. Professore, Gabriele, da fastidio! Aveva l'acceleratore Drive-by-Wire, senza filo. È ovvio, perché sto cosa, parliamoci chiaro, che fa? Gli fai 12 km di laccetti o di cavi o di leveraggi, dai! Ragazzi, quando dicono che gli italiani sono la ricchezza degli altri, è vero. Otto Gasborer si è ispirato ad un'auto italiana, la Lancia Lambda, per creare il sistema di costruzione generale dei suoi mezzi. Oh, Gabriele, qua c'è un problema. C'è? Io non posso guidare il Turbo Star, figuriamoci sto cazzo di coso qua. Ma non c'è vero. Non lo so, chi cazzo lo guida sto coso qua? Chi cazzo? Scuro! Brutta testa di... Ma come si guida un'arnese di questi? Ragazzi, può sembrare strano, ma certe volte è più fruibile di un'auto. Lo sterzo è leggerissimo, il cambio c'è. Ragazzi, non è come abbiamo detto prima che la prima sta... Dalla prima all'ottava le cambi così, altrimenti lo scuro avrebbe un braccio di 8 metri e arriverebbe a mettere le marce fuori la porta. Si mette sempre dalla prima alla quarta, scambiatore, e si rimette la prima per mettere la quinta. Oltre la frenata assistita, tutti quanti i sistemi, la pedaliera è ben centrata, il posto di guida è comodo e il sedile è molleggiato, il posto per lo sbratto è sempre presente. L'unica particolarità durante la guida è che, come per principio fisico sui mezzi molto lunghi, se tu hai le gomme che sono più indietro rispetto all'autista e l'asse posteriore che è molto più in là, quando si stessa e si torna dritti, la parte posteriore non gira propriamente con la macchina, ma nello girare viene anche tirata di traverso. Nel frattempo che lo scuro è andato a pisciare possiamo parlarvi di una cosa fondamentale che è quasi di tutti gli autisti, lo stile di guida. Ci si sveglia la mattina, si entra qui dentro, si mette in moto il mezzo per far caricare tutte quante le bombole e giustamente l'aria per i freni, ci si fa il caffè nel frattempo, soldi spicci sempre alla mano, si accende il navigatore, ci si fa il percorso e dopodiché ci si fa il segno della croce con la mano storta, ci si affida la buona stella e si vanno a prendere quei reietti della società con cui fare la gita. L'accelerazione e la ripresa, raga, qua lo stomaco c'è. Questo è un mezzo che i cavalli ce li ha, 380 cavalli è una coppia del diavolo. Considerate anche il fatto che non è pesante quanto un camion, non ha bisogno della stessa potenza di un camion per muovere tutto il peso, quindi quando hai una potenza come questa qui la senti tutta sotto il culo, infatti si sta divertendo come un dannato questo qui. C'è tanta di quella coppia che anche in ultima marcia questo qui potrebbe ripartire da fermo con l'ultima senza problemi. La comodità di un pullman. Ragazzi, allora, io non vi faccio nomi di quel trabicolo dove ho fatto un viaggio un giorno. C'era poco spazio per le gambe, i sedili erano durissimi e farti Milano-Bologna con un mezzo che è praticamente una panca della chiesa, non è il caso. Qui vai su un altro livello. È silenzioso, è comodo, i sedili sono imbottiti, lo spazio tra te e quelli che ti stanno avanti ce n'è tantissimo, non hai alcun tipo di problema. Puoi andare ovunque senza problemi. Poi ci sono anche gli altri accessori, quindi l'aria condizionata, se è caldo e se è fresco come ti serve. E la visibilità? Ma è tutta una finestra sto coso. Dove vuoi vedere? Qualsiasi panorama ti si apre davanti, lo vedrai comunque. Se parliamo invece della visibilità degli autisti è ben diversa. La cosa che ti fa fare la manovra, come in questo caso, sono i grandi specchietti. Questo era già un mezzo che era più avanti rispetto agli altri. Era dotato di ABS, di freno motore e soprattutto la sua struttura era quello che lo rendeva anche sicuro. Certo, se si fa un frontale con un altro mezzo, con un muro, il primo che ci rimette le pelle, la pelle. E chi sta qui? Ma già la struttura stessa del setra è fatto in modo che riesce ad assorbire l'asperità, gli urti riesce a torcersi in un certo modo. Il riovescio della medaglia è per gli altri, perché quando passa lui anche a 20 orari, agli incroci, ai semafori, tutti si fermano. Perché se questo ti acchiappa, ti acciacca e non rallenta neanche. Ovviamente non aspettatevi l'assetto di una Ferrari 458. Questo molleggia e serve soprattutto per non farvi sentire i fossi. Quando si fanno le curve, soprattutto con quelli che hanno due assi, tende di più ad essere molleggiato, quelli a tre assi sono un po' più stabili. Hanno fatto dei test sui pullman in generale, anche in passato, li hanno fatti andare a circa 45 gradi di inclinazione, alcuni anche a 48 e non si sono mai ribaltati. Quindi anche quelli a due piani, non abbiate paura se l'autista è un pazzo scalmanato senza fare nomi e va a 50, 80, 120 e fa una curva. Ribaltare questo qui, avendo la meccanica, il centro di massa e il baricentro che è tutto basso perché la maggior parte del peso è tutto sulla parte inferiore, difficilmente si ribalterà. Deve fare proprio qualcosa che è al limite delle leggi fisiche. Lui può, ma non glielo chiederemo. Chi come me ha fatto le gite negli anni 90 quando ha sentito a inizio video che questo mezzo andrà alla rottamazione e forse gli si è stretto un po' il cuore. Questo è l'unico caso automobilistico in cui morto un papa se ne fa un altro. Si scende da un 315 e si sale su un 515 nuovo di pacco. Ricordato come mezzo in cui fare casino è destinato a scomparire inesorabilmente. Un po' come quelle persone che vedi ogni giorno in paese e poi scompaiono di colpo e non te ne rendi neanche conto. Per quanto mi riguarda oggi mi è sembrato di rivedere un vecchio amico con cui mi sono divertito tanto e che forse non rivederò mai più. Grazie per aver guardato il video e se sei arrivato fino a questo punto beh vuol dire che il nostro progetto ti piace. Se vuoi sostenerci è facile. Qui sotto troverete in descrizione il collegamento alla nostra pagina adp dove potrai abbonarti e grazie infinite alle persone che lo hanno già fatto. Se invece non avete lo sbatti per andare a registrare su Tipeee potete rimanere comodamente su Youtube tramite gli abbonamenti e i super grazie. E per finire non dimenticate che c'è anche il nostro negozio di magliette e oggetti vari dove potete sostenerci anche così. Fai cagà. Lo so. Litigato, ci sei fidanzato. Ha presa ha fidanzato. Innanzitutto la lunghezza. Come? L'ho recensuto. Non l'ho mai recensito. L'ho recensuto. Recensalo. Mamma che puzza che puzza di petardi. Sì, merdeces. Non manca tanto questo giro però. Lo rego, Gabriele, lo rego con un dito. Guarda. Mi starete chiedendo dov'è la... che piacere! Che piacere! Che piacere! Ho preregistrato. Ma perché sei seduto là? Perché mi sento male. Ho visto a te stamattina notte e mezza e mi hai fatto sentire ma l'ho sbratto proprio. Allora ti capisco. Kasborer, pochi lo sanno. Kasborer. Lo sanno? Lo sanno? Ci siamo, ci siamo nel sanno. Kasborer, Setra, Kikidilz, il costruttore del questo... Baffan... Avete otto ruote dietro e dieci avanti. Eh? Eh? Eh due avanti? Otto ruote dietro.